Le missioni militari estere, composte di alti ufficiali delle nazioni alleate ed amiche, in visita alla collina di Monastero e alla bicocca di quota 731, sacrario dell'eroismo italiano in terra d'Albania e che i nostri soldati hanno già appiamente composto. La storia di sette giorni di battaglia dura e sanguinosa rivive sulla terra martoriata, tra gli alberi sfogli esmozzicati e le nude tombe dei fanni. Grazie.